Una giornata disqualifica per Xavier Johnson e multe per entrambe le società. Questa è la decisione del giudice sportivo per l'infuocato finale della partita di domenica tra Vigevano e Forlì. L'ala americana, dopo aver segnato i liberi che hanno di fatto chiuso il match, aveva esultato compiendo ampi gesti provocatori nei confronti del pubblico. Alcuni tifosi vigevanesi si erano quindi avvicinati alla panchina ospite, colpendo la lastra protettiva in plexiglass. Il giocatore aveva reagito a muso duro in vendo contro i tifosi. Un episodio certamente da condannare, per il quale non sono tardati i provvedimenti. Johnson non era stato espulso, ma il giudice sportivo ha deciso di squalificarlo ugualmente per una giornata. Pesante la multa destinata a Vigevano, 2.500 euro. Giocatore e tifosi, pur minacciandosi vicendevolmente, non sono mai venuti a contatto e questo ha permesso di evitare conseguenze più pesanti per entrambe le parti. Multata anche Forlì, 417 euro per il comportamento dei propri sostenitori, i quali avevano lanciato oggetti dal loro settore verso le tribune.